Immagini impressionanti, quelle che arrivano dal West Virginia, negli Stati Uniti, dove il deragliamento di un treno merci carico di greggio ha causato un incendio di grandi proporzioni, costringendo ad evacuare due intere città. Il convoglio della CSX Transportation, composto da oltre 100 vagoni, era partito dal North Dakota ed era diretto a Yorktown, sulle coste della Virginia, diverse auto parcheggiate in prossimità dell'incidente sono andate in fiamme, parte dei vagoni sono finiti nelle acque del fiume York, secondo le autorità locali almeno 10 vagoni sono esplosi in un effetto a catena ad intervalli di circa mezz'ora l'uno dall'altro, mano a mano che le fiamme si sono propagate. Non ci sono state vittime.